Se siamo qui, oggi, io a scrivere e tu a leggere, è perché il nostro cervello ha bisogno di cortisolo per stare allerta rispetto a pericoli che potrebbero mettere a repentaglio la nostra evoluzione come specie. Chi esagera con il pensiero positivo è, come chi di notte, sfreccia con il semaforo rosso, correndo a 200 km orari, sperando che tutto andrà bene e convinto di essere baciato dalla sorte. A volte non capita nulla. A volte capita invece qualcosa di brutto. Il pensiero positivo, da questo punto di vista, può persino essere considerato anti-evolutivo. Infine, il terzo motivo è che spesso il pensiero positivo, a ogni costo, contraddice pesantemente il modo in cui il cervello funziona. Ti è mai capitato di essere molto arrabbiato per qualcosa e di avere accanto qualcuno che inizia a dirti, shh, calma, tranquillo? Come reagisci? Come ti senti? Il cervello vive di realtà che sono sempre e assolutamente autentiche, anche se non sono vere. Se sei arrabbiato o sconfortato o triste, l'ultima cosa che vorresti sentirti dire è che tutto andrà bene. Il pensiero positivo va bene ed è utile, ci mancherebbe, ma di certo non come spesso ce lo vende una certa letteratura o una certa categoria di personaggi che ti riempiono la testa di assurdità per spillarti soldi o convincerti a iscriverti al loro prossimo corso. La felicità 24 ore al giorno è solo per persone insipide o per chi non vive sulla terra. Tuttavia, anche se la felicità non esiste, tu puoi imparare a produrre felicità, sapendo come funziona il cervello e quindi imparando a farlo funzionare a tuo piacimento. Non tanto e non sempre, ma ogni tanto e quanto basta. La felicità non esiste. La felicità si fa. E come si fa la felicità? Un pezzo alla volta. Parola dopo parola. Azione dopo azione. Certo, chiariamolo subito, non ci si riesce in pochi giorni come alcuni fantomatici esperti di apprendimento vaneggiano. In cinque minuti, un giorno o tre settimane, se ti va bene, puoi sviluppare l'abitudine di grattarti un orecchio o di fare la O con il bicchiere. Per trasformare il tuo cervello, per plasmarlo, affinché si abitui a essere reattivo alle condizioni che potrebbero allietarlo, ci vuole un po'. Ecco quindi la prima importante avvertenza. Se stai cercando un libro che ti garantisca un miracolo pronto per l'uso, di facile realizzazione e da portare a casa in pochi minuti, questo non è il libro per te. Qui si fa sul serio e si procede in modo politicamente scorretto. Ti parlerò in maniera molto diretta e ti dirò cose che potrebbero non piacerti. Poi farò del mio meglio per smontare quei miti che purtroppo ancora oggi impediscono alle persone di sviluppare il loro pieno potenziale e raggiungere i traguardi che desiderano. Infine, ti spiegherò in maniera molto semplice come stanno le cose, quali parole utilizzare e quali evitare, come ci si abitua all'essere tristi e come ci si può abituare al benessere. Potrebbe non essere semplice all'inizio, ma come tutto quello che può cambiare radicalmente la tua vita, vale di sicuro la pena lavorarci un po'. Viviamo nell'epoca del self-help, ovvero dei libri e dei formatori che ti promettono miracoli con le loro tecniche, i loro metodi, le loro incredibili e mirabolanti strategie. Per carità, sicuramente qualche libro interessante sull'argomento c'è e qualcuno che sa fare il suo mestiere di certo esiste. Al tempo stesso è curioso notare che nell'epoca storica in cui siamo letteralmente sommersi da libri sull'autoaiuto che promettono gioia perenne e felicità, ci sia il più alto numero di persone infelici che la nostra specie abbia mai registrato. Chiunque può accedere a qualsiasi informazione e la letteratura sulla felicità è praticamente sterminata, eppure siamo infelici come non lo siamo mai stati. Di chi è la colpa? Chissà. Forse ci fidiamo troppo del nostro cervello, e non dovremmo. Io stesso, quando ho deciso di scrivere un libro sul concetto di benessere e felicità, ho iniziato a fare un elenco degli argomenti di cui avrei parlato, e alla fine di questo elenco ero molto soddisfatto. Neuroscienze, intelligenza,